Salve a tutti, allora come promesso vi parlerò delle griglie di valutazione del concorso anche perché domani comincerà finalmente questo benedetto concorso mi dispiace che la situazione in Italia sia così difficile anche perché oggi c'è stato un nuovo record mi sembrano circa 15.000, poco più di 15.000 casi, 15.200 casi questo concorso è uno dei più discussi probabilmente della storia allora vi prendo una griglia di valutazione scelta perché viene utilizzata da diverse classi di concorso quindi bene o male potrebbe essere molto vicina a quella vostra in particolare fa riferimento alla classe di concorso A008, A009, A016, A042, B006 e B015 c'è una griglia di valutazione per quanto riguarda i quesiti scritti e c'è una griglia di valutazione per la comprensione del testo in inglese in inglese da come leggo ci saranno 5 domande e da come leggo ci saranno altri 5 quesiti per quanto riguarda la prova scritta allora come vi avevo già accennato e ve l'avevo detto in uno dei precedenti video circa due mesi fa daranno una grande importanza cioè potranno dare tra 0 e 5 punti per quanto riguarda la padronanza delle conoscenze quindi conoscenze competenze disciplinari quindi competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto di insegnamento ovviamente questa scala sarà 0 punti se il quesito non viene svolto o non vi è nessuna individuazione dei nuclei tematici fondamentali della disciplina potrà avere un punteggio fino a 5 per ogni quesito se la trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze disciplinarie ampie e approfondite badate bene rispetto al concorso 2016 secondo questa griglia di valutazione voi potrete prendere fino a 75 punti dei 100 quindi 75 centesimi l'inglese vi farà veramente poco 5 punti su 100 immaginano che il restante questa cosa non è cambiata questa dei 20 punti quando feci il concorso io nel 2016 l'inglese valeva molto di più 20 centesimi sono i punteggi fino a un massimo di 20 che si possono avere per carriera dottorato di ricerca eccetera 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 cioè per ogni classe di concorso vanno fatte delle dichiarazioni relativamente a servizi o certificazioni che si sono riuscite ad acquisire e queste poi vengono conteggiate e si sommano agli 80 punti il punteggio comunque in ogni caso minimo per essere ammessi deve essere 21 trentesimi o 7 decimi o 70 centesimi però attenzione 21 trentesimi per ogni prova credo tranne chi fa storia e filosofia perché siccome storia e filosofia fa parte di una classe di concorso però devono fare due prove o almeno nel 2016 è stato fatto così si faceva la media e credevo che credo che quello che conta è la media che sia più alta di 21 mentre per quanto riguarda quelli che hanno la maggior parte delle classi di concorso che hanno solo una prova scritta bisogna prendere nella prova più di 21 trentesimi come totale cioè non come singola domanda ovviamente allora quindi ritornando a noi 5 punti sulle conoscenze e competenze disciplinari e veniamo a noi spieghiamo meglio che cosa intendono dire ovviamente per conoscenza intendono l'atto di conoscere conoscere la materia e dimostrare di saperne gestire il contenuto la gestione loro dicono padronanza della conoscenza la gestione del contenuto è comunque correlata anche alla scelta della metodologia didattica anche qui c'è una scusate voglio controllare se sto registrando c'è una ripetizione in realtà quando dicono competenze disciplinari per competenze disciplinari si intende tutta quell'area di competenze di didattica della disciplina area di didattica della disciplina che include quindi un'approfondita e aggiornata conoscenza della materia insegnata quindi conoscenza aggiornata della materia conoscenza aggiornata e include anche però tutta la questione legata al linguaggio quindi all'esposizione scritta attenzione quindi anche se volete inserire una formula state attenti perché poi essendo tutto computer based io vi consiglio di non esagerare con le formule è costituita quindi dalla scelta dei linguaggi dei nuclei fondanti ovviamente ripeto la metodologia didattica più inerente alla disciplina e al contenuto questo deve essere parte del bagaglio culturale che il docente deve possedere relativamente quindi alla cdc alla materia di insegnamento quindi ovviamente per loro queste conoscenze devono essere solide e ben strutturate e quindi da aggiornare continuamente